Alessio Pignatelli, non è iniziato bene ma benissimo il campionato della Civitavecchia Volley in questa Serie D. Partiamo dalla partita di domenica scorsa contro il Palocco, una vittoria sul campo esterno per 3-2. Che partita è stata e quanto è stata importante questa vittoria? La premessa è che abbiamo giocato contro una squadra decisamente importante. Sicuramente sarà una squadra che arriverà a fine campionato facendo i play-off, se non aspirando addirittura al passaggio di categoria. La partita che abbiamo disputato è stata una partita giocata un po' a strappi, per alcuni momenti discretamente, per altri malino, come succede nell'arco di una partita molto lunga, dove comunque nonostante avessimo un vantaggio di due set a uno per noi, non siamo riusciti a concretizzare con il quarto set, quindi vincendo con il punteggio pieno. Ripresi poi nel quarto set abbiamo tirato fuori il nostro orgoglio e abbiamo comunque fatto un'ottima vittoria esterna. Un punto perso per strada, quello di domenica, però per il resto tutte vittorie ottenute con i tre punti, quindi con la posta in palio piena. Te l'aspettavi una partenza così? Sì e no, nel senso che sappiamo delle qualità della nostra squadra, che erano buone sicuramente, l'inizio è stato sicuramente il migliore delle aspettative, vediamo adesso di continuare in questa direzione che mi sembra quella più opportuna. Quanto è importante il fatto che la squadra, magari anche lo scorso anno, abbia avuto lo stesso allenatore e quindi magari si trova forse meglio ad affrontare di nuovo questo campionato? Ma per noi abbiamo cambiato parecchi giocatori al nostro organico, però le ragazze che erano con me lo scorso anno probabilmente si sono fatte portavoci nello spogliatoio di quella che è un pochino la filosofia di quello che stiamo facendo, quindi sicuramente è stata una cosa importante il passaggio dello scorso anno. Poi ripartendo dalla base anche tecnica dello scorso anno abbiamo aggiunto qualche cosina.